Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Incidente mortale sull'autostrada adriatica muore un settantenne di cartoceto in auto viaggiava con la moglie e il figlio di 41 anni disabile che ora è ricoverato in gravi condizioni Padre e figlio in manette avevano inscenato la truffa dello specchietto vittima un anziano che c'è cascato in pieno e stava per pagare un danno mai procurato all'auto dei due truffatori provvidenziale l'arrivo dei carabinieri Ancora senza esito le ricerche di un sub disperso in mare da ieri sera a largo di Ancona l'uomo era uscito per una battuta di pesca l'allarme lanciato dai familiari che non l'hanno visto rientrare in casa Venduti in un solo giorno 500 biglietti in prevendita di ingir per fan la passeggiata degustativa per rivide il centro storico di Fano che si snoda tra arte, cultura e musica E' polemica per la piazza negata alle auto Ferrari destinate ad una manifestazione per disabili sotto accusa l'assessore Marchegiani che con foto alla mano secondo gli organizzatori sull'utilizzo della piazza ha usato due pesi di un due Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia In apertura una notizia dell'ultima ora che è arrivata poco fa in redazione nella morte di Nello Maiorano Nello Maiorano di 72 anni lo vedete in questa immagine morte che è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi Nello Maiorano laureato in scienze politiche dirigente dell'Istituto Autonomo Case Popolari una vita anche in politica iscritto all'ADC poi al Partito Popolare nella Margherita e per un breve periodo anche nel Partito Democratico è stato assessore dal 1985 all'88 nella giunta Mazzoni-Carboni ai servizi sociali è stato anche consigliere comunale e nel 1997 ha ricoperto l'incarico di presidente del Consiglio Comunale di Fano è stato anche presidente del circolo culturale Jacques Maritain responsabile della protezione civile dal 90 al 92 e dell'associazione Amici del Teatro della Fortuna al figlio Giovanni ai familiari naturalmente le più sentite condoglianze da parte della redazione di Occhio alla Notizia e adesso l'incidente mortale in A14 dove ha perso la vita un uomo di 70 anni Corrado Tallevi di Cartoceto che appunto ha perso la vita questa mattina in questo tragico incidente è venuto in A14 intorno a mezzogiorno all'altezza dell'uscita del casello di Ancona Sud l'uomo era alla guida di un furgone attrezzato per il trasporto dei disabili su cui viaggiava con la moglie Anna Renzoni di 66 anni ed il figlio diversamente abile di 41 quando a causa di un malore oppure di una distrazione ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro una cuspide sul posto è atterrata un'eleambulanza che ha trasportato gli altri due feriti in ospedale a Torrette di Ancona dove ora sono ricoverati in prognosi riservate il più grave come dicevamo è il figlio di 41 anni disagi anche al traffico con code di circa 4 km della dinamica si sta occupando la polizia stradale di Fano mentre i volontari della protezione civile sono intervenuti per distribuire bottigliette d'acqua ai viaggiatori sulle auto ferme in colonnate e i carabinieri di Pesaro hanno arrestato per tentata truffa padre e figlio di 38 e 20 anni originari di Noto in provincia di Siracusa avevano agganciato un anziano automobilista facendogli intendere che l'uomo aveva urtato lo specchietto retrovisore della loro vettura dopo averlo rincorso e bloccato gli hanno chiesto 150 euro di risarcimento l'anziano ha creduto a tutto dicendosi tra l'altro anche dispiaciuto di non poter pagare subito quanto dovuto per mancanza di contanti in tasca ma ha detto vado a casa a prendere i soldi i due truffatori l'hanno seguito dunque e all'altezza di Borgo Santa Maria le loro auto una lancia Y grigia già nota è stata intercettata dai carabinieri padre e figlio sono stati dunque così fermati per un controllo mentre l'anziano arrivava con il denaro di cui il doppio arresto in flagrante i due uomini in auto i due uomini avevano anche un coltello dopo la convalida dell'arresto sono stati rimessi in libertà in attesa del processo nei loro confronti è stato chiesto un foglio di via che li tenga lontani da Pesaro per i prossimi tre anni quello precedente infatti il foglio di via era appena scaduto e sono ancora senza esito le ricerche di un sub disperso in mare da ieri sera si tratta di un uomo di cui i familiari avevano denunciato il mancato rientro da una battuta di pesca vicino alla piattaforma offshore del Leni, Clara Ovest a circa 15 miglia dalle coste di Ancona da una prima ricostruzione dei fatti il disperso si sarebbe recato nella zona partendo dal porto di Marina Dorica con il proprio gommone per effettuare attività di pesca subacqua in apnea il gommone è stato ritrovato con gli effetti e i documenti personali a bordo a ridosso di una gamba della piattaforma dove si trovava ormeggiato sul luogo le motovedette della capitaneria di Porto di Ancona coadiuvate da unità navali del distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco e da una motovedetta del reparto aereo navale della Guardia di Finanza di Ancona al momento sono in campo tutte le risorse disponibili le ricerche verranno interrotte però durante le ore notturne per poi riprendere alle prime luci dell'alba da 5 anni il Ferrari Club di Pesaro mette a disposizione le auto di lusso per l'evento estivo fanese dedicato e riservato ai ragazzi affetti dalla sindrome di Williams la manifestazione però quest'anno non si è potuta svolgere come di consueto in piazza 20 settembre così come tradizione perché l'assessore Stefano Marchegiani avrebbe concesso avrebbe negato anzi il permesso alle Ferrari mentre soltanto il giorno prima e qui ci sono le foto che tra poco vedremo mentre dicevo il giorno prima un'altra manifestazione si è svolta regolarmente vediamo a loro sì e a noi no secondo Andrea Romiti presidente dell'associazione genitori sindrome di Williams l'assessore alla mobilità urbana Stefano Marchegiani utilizza due pesi e due misure diverse per rilasciare permessi Romiti dal 2005 organizza nel mese di giugno una manifestazione psicoterapeuta a carattere nazionale denominata Vivere il mare durante i sette giorni dedicati all'evento che ottiene il contributo dall'ospedale Bambin Gesù di Roma e dall'istituto nazionale per la ricerca scientifica una delle iniziative si svolgeva in piazza 20 settembre dove i ragazzi potevano provare l'emozione di salire a bordo di auto di lusso quest'anno però le cose sono andate in modo diverso e le autorizzazioni sono state date solo ad altri club da quattro anni a questa parte il club Ferrari di Pesaro è intervenuto nella nostra manifestazione dando un momento ludico a questi ragazzi per un paio d'ore in una serata di fargli fare un giro per fano a bordo di queste bellissime vetture senza dar fastidio a nessuno anche i commercianti stessi erano tutti molto contenti perché vuole non vuole il nostro piccolo abbiamo portato sempre oltre 100 persone mi è stato mandato dire che tutte le manifestazioni all'interno della piazza 20 settembre motoristiche non si facevano non si sarebbero fatte tranne quella del 6 agosto delle macchine d'epoca perché l'anno scorso era risultata una manifestazione bellissima adesso io vorrei sapere se questi signori sono in grado di dire quale è quella bella quella è quella brutta e questa poi tra l'altro non è stata l'unica non è stata neanche l'unica perché io posso portare la documentazione foto di un raduno di Fiat 850 sempre in piazza 20 settembre sempre quest'anno ritorniamo indietro nel tempo commenta Romiti che esprime la sua opinione le associazioni politicamente ed economicamente più forti riescono ad avere ciò che vogliono dice quelle invece che come noi mettono in evidenza gli aspetti problematici di persone diversamente abili ottengono poco o nulla qui chiedo che il signor Sindaco Massimo Seri intervenga verso l'assessore di competenza di queste cose si faccia dare una spiegazione perché ci sono questi due pesi due misure e su questo episodio i consiglieri d'opposizione Santorelli Garbatini e Del Vecchio hanno presentato anche un'interrogazione urgente in consiglio comunale e adesso parliamo di sanità perché il sindaco di Fano Seri questa mattina ha ribadito il suo no all'ospedale unico a Muraglia di Pesaro anzi ha invitato il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli al prossimo consiglio comunale sulla sanità basta dibattiti infiniti è ora di decidere il luogo del nuovo ospedale con questa esclamazione il sindaco di Fano Massimo Seri ha ribadito il suo no a Muraglia di Pesaro rilanciando Chiaruccia come zona ideale essendo centrale per le tre vallate ed oltre a chiedere ai colleghi di uscire dai campanilismi vorrebbe al più presto un incontro con il presidente della regione Luca Ceriscioli anche in consiglio comunale ho chiesto anche alla luce delle discussioni che sono emerse in questi giorni per capire qual è l'agenda politica che lui ha in testa prendendo anche dei punti fermi su quelle che sono le posizioni della nostra città c'è inoltre un problema detto Seri cioè quello dei due ospedali Santa Croce e San Salvatore che non possono continuare in queste condizioni secondo il sindaco va proseguito il percorso di integrazione fra le due strutture ma allo stesso tempo lancia una proposta al direttore generale di Marche Nord Aldo Ricci ho lanciato anche una proposta viste anche le caratteristiche delle Santa Croce le professionalità che ci sono e le strutture che ci sono di pensare un dipartimento della salute del bambino e della donna in senso lato questo qualificherebbe Marche Nord qualificherebbe il Santa Croce ma potrebbe diventare anche un punto di riferimento importante e sanitario per tutto il territorio regionale il primo cittadino è intervenuto poi sul degrado e verde pubblico verranno presi dei provvedimenti sia sul lungomare quindi Lido Sassonio e Torrette sia in centro storico che alle porte della città comprese quindi anche le rotatorie di grandi dimensioni progetti inoltre ci sono anche sulla programmazione degli eventi che secondo Seri dovranno avere due caratteristiche ben precise una è quella dell'accoglienza sia per chi vive la città sia per i turisti che deve essere un ventaglio per tutti i gusti come si dice qui non ci manca nulla per fare tutto questo poi c'è un tema di eventi forti che devono caratterizzare che sono di promozione importanti di alto livello poi da settembre ci sarà un calendario molto fitto che coinvolgerà molti settori della città e avremo un'offerta veramente importante e ricca ecco sulla morte di Nello Maiorano notizia con cui abbiamo aperto il telegiornale è arrivata adesso la comunicazione che il funerale si terrà lunedì alle 15.30 in cattedrale a Fano il comune è in addirittura d'arrivo per avere a titolo gratuito l'area dell'aeroporto già dal prossimo anno potrebbero iniziare i lavori per il parco urbano al campo d'aviazione si attende il mese di settembre per due convenzioni attese da tempo dalla città di Fano quella per realizzare le opere compensative della terza corsia e quella per l'accessione dell'area dell'aeroporto al comune riguardo l'autostrada a 14 è stato presentato un ricorso al Tar del Lazio visto il parere negativo del ministero dell'ambiente sul casello di Fenile riguardo alla zona dell'aeroporto invece la giunta ha deliberato martedì scorso un atto trasmesso in consiglio comunale con il quale è stato concluso il percorso che fa capo all'ente locale e quindi ora spetterà al demagno statale proseguire per il passaggio gratuito della proprietà dell'intera area quindi a quel punto potremo anche diciamo così entrare in una fase operativa per quanto riguarda anche la realizzazione del progetto del parco urbano recuperando quello che era stato il lavoro dei cittadini dell'associazione negli anni precedenti con il cosiddetto progetto salbitano e metteremo in campo già dai prossimi mesi una serie di interventi importanti penso alla cosiddetta strada mazza parco su questo avete messo a bilancio già delle risorse assolutamente sì abbiamo previsto alcune centinaia di migliaia di euro perché realisticamente sappiamo che un intervento per la realizzazione di un parco urbano non si può fare in pochi mesi dovrà essere realizzato per stralci nel corso degli anni però ovviamente non vogliamo perdere tempo vogliamo iniziare subito quindi già 2015 2016 2017 abbiamo previsto delle risorse proprio perché pensiamo che una volta acquisita la proprietà dell'area bisogna subito dare alla città il segno del cambiamento facendo già dei primi interventi che possano dare l'avvio alla realizzazione del parco urbano venduti in un solo giorno 500 biglietti in prevendita per in giro per fan la passeggiata degustativa per le vie del centro storico di Fano tra arte, cultura e musica nel corso della manifestazione che si svolgerà lo ricordiamo sabato 8 agosto oltre ad ammirare i monumenti e i musei si potranno effettuare anche due visite guidate al Teatro della Fortuna e alla Pinacoteca San Domenico entrambe le visite previste per le ore 21 e 22 e 30 dovranno essere prenotate al numero di telefono della Proloco che vedete in questo momento in sovraimpressione questa sera invece nella chiesa di Santa Maria Nuova a Fano si terrà il secondo appuntamento della rassegna concerti d'organo dalle 21 e 15 sarà la volta dell'organista giapponese Izumi Ikeda che proporrà una rappresentazione con pagine del repertorio organistico torna domenica 9 agosto invece la quinta edizione del torneo di calcio Balilla città di Fano alla polisportiva la combattente i blu contro i rossi 10 giocatori per parte due portieri e tanti occhi fissi sulle evoluzioni imperdibili di una pallina è il gioco del calcio Balilla chiamato anche calcetto o bigliardino a seconda delle varie regioni d'Italia è arrivato nel nostro paese da oltre 60 anni e ancora in grado di appassionare grandi e bambini a questo gioco la combattente società polisportiva fanese che ha festeggiato di recente 90 anni di attività dedica la quinta edizione del torneo di calcio Balilla città di Fano in programma domenica 9 agosto nella sua sede in via Tito Speri 18 importante novità di questa edizione sarà il torneo dedicato ai diversamente abili promosso in collaborazione con la cooperativa sociale il germoglio aperto agli amatoriali e quest'anno oltre al torneo bambini under 14 abbiamo abbiamo una novità abbiamo fatto un torneo per i diversamente abili per bambini e anche per persone adulte tant'è che ho avuto la conferma che un gruppo di persone disabili ospiti in questo momento del Donorione proveniente da Firenze verranno qui a giocare a divertirsi debbo ringraziare cogliere l'occasione per ringraziare il presidente della combattente il consiglio direttivo che danno anche quest'anno la disponibilità a questo torneo ringraziare gli sponsor che mi danno una grossa mano e mi aiutano e i partecipanti che tutti gli anni si riconfermono e vengono qui a divertirsi la manifestazione nata per puro divertimento ha acquisito negli anni una rilevanza interregionale attirando giocatori anche professionisti da ogni parte d'Italia la sfida inizierà verso i due e mezza tre del pomeriggio poi dureremo il primo turno fino verso le otto alle otto gli faremo una cena o qualcosa per questi ragazzi di tutto offerto dalla società alla bocciofila e poi continueremo secondo me fino a mezzanotte l'una perché la finale andremo a finire quell'ora lì con le premiazioni ci sarà un piccolo pensiero per tutti il pensiero sarà per tutti anche un piccolo regolino pensiero della combattente Zaini quella e quell'altro e parecchi primi ci saranno in più come ha detto Gasparrello e Luciano sono contento per questi ragazzi disabili così però vorrei ricordare che noi facciamo anche scuola bocce per il centro di uno che ci sono questi ragazzi che sono felici di venire qui a giocare bocce anzi li saluto e ci vediamo presto dopo tanti anni di assenza e sulla scia dell'ottimo campionato disputato lo scorso anno in serie D torna ed è stato rifondato il club Forza Alma lunedì 3 agosto nei locali del Bargiolla in via Castelfirado zona San Cristoforo si è svolta l'assemblea costitutiva del club Forza Alma che dopo qualche anno si è di nuovo costituita con l'obiettivo insieme ai Panthers di dare lustro alla città aiutare il presidente Gabellini nel diciamo nel migliorare il traguardo se è possibile perfezionarlo e portare l'arma nelle categorie dove merita e naturalmente far ritornare a gremire il vecchio Borgo Metauro un luogo dove i tifosi di qualsiasi città dall'anziano al genitore con bambini possono ritrovarsi per condividere le proprie esperienze per passare una giornata insieme a vedere l'alma condividendo anche momenti conviviali esperienze soprattutto per dimostrare al presidente Gabellini e alla squadra che non sono soli che c'è una città che li sostiene che c'è un cuore che pulsa per loro e che quindi devono essere sicuri che c'è un gruppo di persone sempre più grande che li sostiene indipendentemente da quelli che sono i risultati da quelli che sono le vicende del campo perché qui c'è qualcosa di più c'è un amore di una città verso una squadra di calcio questi ragazzi hanno bisogno di noi non lasciamo solo il presidente noi vogliamo fare diciamo un tramite fra la società i tifosi la città e diciamo far sentire il calore anche il presidente della squadra che siamo vicini vada come vada noi saremo sempre del fano perché l'alma come aquila vola e chiudiamo il nostro telegiornale parlandovi del grande successo di pubblico ieri sera all'arena BCC di Fano dove oltre mille persone con tanto di standing ovation hanno salutato e apprezzato applaudito Queen Symphonies un concerto dedicato alle più celebri canzoni dei Queen e su queste note vi saluto vi auguro un buon fine settimana arrivederci a 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.